L'amore dei Fogli è una storia che tratta il periodo della legge Basaglia, della legge 180, dove abbiamo dovuto accettare e convivere per diverso tempo con una legge precedente, che è una legge di contenzione, una legge fatta di elettroshock, di lager veri e propri, così come anche lui stesso li chiamava. Quindi all'interno di questa storia noi abbiamo deciso di raccontare una storia d'amore, che è oggettivamente una parte romanzata, ma è qualcosa che realmente poi in alcuni casi è esistito. E chiaramente tutto questo in un periodo storico in cui il nuovo non viene accettato e il vecchio fa fatica ad andare via. Noi abbiamo voluto fare una denuncia, noi essendo una cooperativa sociale, noi siamo la cooperativa sociale Tecne, le cooperative sociali le ha volute fortemente proprio Basaglia, noi abbiamo voluto fare una denuncia, abbiamo voluto dire che quello che Basaglia ha creato, ha voluto, non è mai stato attuato e oggi ci sono intere famiglie che convivono ancora con questo problema e non hanno trovato una soluzione, perché allora Basaglia voleva tutto demandare alle regioni e le regioni non erano in grado di poter sostenere questo lavoro. E quindi di conseguenza c'è stato un ictus che ha bloccato tutto e noi vogliamo denunciare esattamente questo. Vogliamo dire che c'è ancora tanto non fatto e tanto ancora che deve essere fatto e noi come cooperativa sociale abbiamo l'obbligo di denunciare questo. Ci saranno attori professionisti, ci saranno attori non professionisti, quelli che io chiamo amanti, non amatoriali e poi ci sono persone realmente con disabilità, con delle problematiche fisiche, psichiche che si sono prestati a fare questo spettacolo e anche lì vogliamo denunciare quanto sia importante far fare questo genere di attività a persone che per il pubblico, per le persone, per gli altri non può essere sostenuto, invece può essere fatto, un po' come Basaglia stesso voleva quando a Trieste ha fatto arrivare Dario Fo a lavorare con i malati.